Benvenuti su Ryan World Channel e oggi apriremo una bustina di FIFA World Cup Russia 2018 Io volevo salutare Luca Cammarata Ciao Luca, ti dedico questo video delle figurine panini Io direi di fare un gioco con voi ragazzi Vediamo chi ci potrebbe essere qua dentro Io direi che qua dentro ci sarà Giuliano Cio Scusate un attimo ragazzi che mi gratta Giuliano Cio del Messico, Goldstopper E per me ci può anche essere Diego Godin, non quelle speciali, quelle normali Scusate E poi io direi che ci sarà Messi, Game Changer Io spero di trovare anche domani, nella bustina di domani Spero di trovare Marwan Fellaini, Fans Favorite Poi dell'Inghilterra, Eric Dyer Poi del Belgio Del Belgio Hazard Ok, direi di aprirla Ma prima iscrivetevi al canale e mettete like al video Apriamo la bustina Uno dell'Uruguay, quello che volevo Però non è Godin È Christian Rodriguez 354 Poi vediamo Ramadan Sabi, Rising Star Ieri avevamo trovato quello del Belgio Telemans Poi troviamo Oh, scusate Poi Perché cadete? Ecco, non cadono più Poi troviamo Serovich Della Svizzera Le 323 Poi Stavano per cadere Poi troviamo Della Svezia Emil Forsberg Forsberg Sì La 331 Peccato Ho trovato un giocatore Di quelli che ci hanno buttato i fuori Sto ancora pensando a Italia-Svezia Che peccato Poi dell'Islandia Troviamo Birkir Che nome? È come dire birichino Birkir 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 Che barba che ha La 186 Dell'Islanda Poi L'ultima figurina Non è caduto Vabbè Dopo la raccolgo Tazir Al-Jassim Dell'Arabia Saudita La 214 Spero che questo video vi sia piaciuto Mettete like su E iscrivetevi al mio canale Ciao 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 Ciao